Non lavate i tessuti dipinti, non prima di averli fissati. Non lo sapevi? Ti insegno come si fa. Ecco le 10 regole d'oro. 1. Non fissare prima di 3 giorni dalla fine del lavoro, perché il colore deve essere perfettamente asciutto. 2. Usa il ferro da stiro al massimo della temperatura. 3. Stira il capo prima alla rovescia, ma ricordati di mettere della carta assorbente o un telo che possa assorbire l'eventuale colore in eccesso. Tra il piano dell'asse da stiro e la pittura. 4. Non fermarti mai col ferro, ma vai avanti e indietro, per evitare di macchiare la stoffa o di bruciarla. 5. Considera che dovrai soffermarti dai 5 ai 10 minuti per ogni parte che devi dipingere. 6. Stira il capo anche dall'altra parte. 7. Tra il ferro e il capo, dalla parte della dritta, frapponi un telo molto sottile. Se posi il ferro direttamente sul colore, rischierà di attaccarsi. 8. Stira almeno 5 minuti anche da questo lato. 9. I capi fissati da poco non vanno lavati. Sappiate che il colore è come le macchie. Se vi macchiate una camicia e non la lavate subito, la macchia rimarrà indelebile per sempre. Quindi, se volete conservare bene i vostri tessuti dipinti, non lavateli appena fissati. 10. Se volete sapere come vanno lavati, continuate a seguirmi.